Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Michael Schumacher, leggendario campione di Formula 1 e amato volto della scuderia Ferrari, è riapparso in pubblico per la prima volta dopo oltre un decennio, in occasione del matrimonio della figlia Gina. L'ex pilota, che dal 2013 vive lontano dai riflettori a causa delle gravi conseguenze di un incidente sugli sci, è stato per anni sottoposto a cure mediche intensive, con la moglie Corinna a guidare un ristretto team di specialisti nella loro villa sul lago di Ginevra. Fino a questo momento, solo pochi familiari e amici intimi hanno avuto accesso a Schumacher, mantenendo intatta la privacy che lo circonda da anni. Tuttavia, a fine settembre 2024, Michael ha partecipato all'emozionante evento del matrimonio della figlia maggiore, segnando un toccante ritorno pubblico, anche se protetto dalla stretta riservatezza imposta dalla famiglia. La cerimonia, blindatissima, si è svolta nella lussuosa villa di famiglia a Porte d'Andrach, sull'isola di Mallorca. Una splendida tenuta di 15.000 metri quadrati che una volta apparteneva a Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Immersa in un paradiso tropicale con piscine, giardini e un'area riservata alle cure di Michael, la residenza è stata lo scenario perfetto per l'unione tra Gina Schumacher, 27 anni, e il fidanzato Ian Becchi. Nonostante la gioia del momento, Corinna ha continuato a mantenere alto il livello di privacy, vietando l'uso di smartphone e fotocamere agli ospiti per garantire l'intimità della celebrazione.